Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Fridays Vlog Siamo in viaggio a Betone per la quinta e ultima tappa dell'Italian Enduro Series Questa sarà la più bella perché non c'è da pedalare, ci sono le cabinovie Quindi sarà la più bella di tutte, però ce ne sono solo due, però ci sono le cabinovie E l'ultimo Fridays Vlog del campionato italiano di Downhill Sta andando veramente bene, quindi grazie a tutti E sigla! Let's go Grazie amici, benvenuti! Good morning! Day 2 Oggi facciamo le pratiche Siamo le nove praticamente Con molta calma Stiamo facendo riabilitazione Adesso vi faremo vedere una cosa che probabilmente ci toglieranno l'iscrizione al canale Venite con me Colettifricio Ragazzi lasciate un commento Non si può fare Sui calzisti Per farti Così See you later Anche l'entrata Vuoi vedere il numero? Che numero è? 310 Non l'abbiamo detto Qual è il programma di giornata? Detto che Riccardo è ancora nella categoria esordienti Parlo io, visto che lui non parla Di 5 PS ne farà solo due Non possiamo Spoilerare Spoilerare nulla E dopo un'attenta valutazione con il giudice di gara Puoi entrare a far parte del team anche tu Io, grazie giudice Siamo qua Ci siamo preparati Protezionati Siamo pronti per girare duro Durissimo Facciamo questa mattina la 3 No, la 3 No, la 4 No, loro Loro Fanno la 3 Hanno fatto la 3 E noi facciamo la 4 Oggi è pomeriggio la 5 Ma te volete pedalare? Ma va a pedalare 30 euro i bike pass qua Allora, ragazze Cosa ne pensate del nostro No, ma è che inciatura I miei capelli sono nuovi Ne ho cambiati stamattina Prima di fare le prove Oh, ok, eh Oh, ok, ok Oh, ok Un po' Un po' ma ho bucato sorry no sembra di aver bucato ho capito largo alto alto lì vuol dire stretto alti alti no su alti let's go come ha fatto il tuo maso eh sono passato che dove il tuo maso eh ma hai fatto ancora la curva ma che roba è ma la pièce bella c'è solo qualche rilancino non ci sono tante linee da guardare è istintiva adesso sto provando le nuove ruote di Svalbe che usciranno tra due o tre settimane mi trovo molto bene tengono bene adesso andiamo a mangiare e poi andiamo a provare PS4 let's go we are back padre e figlio chi sarà il più veloce? lo spirito santo più o meno noi portici supporti e ci sopporti soprattutto devi pedalare tutto su no oggi no ma domani devi pedalare speriamo di no siamo tornati dopo pranzo esatto chiaro com'è PS5 è bella bella e non ci sono pezzi sketchy meglio così oh la smetti l'ombre adesso la vedrete a venire con la vedrete insieme a noi let's go andiamo? let's che sick bella 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 eh così si può passare interni no? no ho provato ti incastri oh io ho provato esterno eh invece devi stare sopra a destra si sopra l'albero no non c'è la testa voglia di sporcarmi lasciamo che le ruote si asciughino un attimo no ma qui è finita no è finita ah sì la luna prova luna prova nel pomeriggio adesso stiamo andando su per fare un giro nel park S4 è bella a noi piace di più della prima confermi un po' più scorrevole dai più divertente sì adesso facciamo due giri e poi basta e poi basta andiamo a mangiare let's go provare questo vlog grazie grazie c'è un tratere madonna oh oh dio ah 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 che botta mo tutta l'abbia fatta ci provo mo è atterrato a metà mi hai aspetato tu lo hai fatto a vederlo mi son girato proprio il momento Che figata Oh stra bella Day one finito Siamo andati a fare qualche giro con i bro Davide, Zinu, Cristian Bine Abbiamo provato la pista forse dell'IxS La DH La DH Strassi Tecnica naturale, rock garden everywhere Salti che abbiamo sendato tutti Io no Perché io sono un po' più scarso Ci vediamo mani La Nutella è buona Ciao a tutti Benvenuti a un altro vlog di friday Siamo qui e ora parliamo tutto in inglese Il giorno di sol Giorno due, tre Ah che cosa faccio di fare dei vlog in italiano? In inglese? Se voglio li faccio in inglese Cos'è il programma di giornata? Penso che forse facciamo un giro con la cabinovia Che ci riscaldiamo Perché se no tutta la mattina non facciamo niente Perché dovete sapere che questa mattina Riccardo si è svegliato comodamente alle otto e mezza Sono le 10 Non inizierà mai questa giornata Che sogno questa gara Con la cabinovia Svegliarsi dalle Quando si vuole Boh Le crepe Le crepe No che non erano crepe Poi ha mangiato Poi con molta calma Si è preparato Sono le 10 E 10 Programma di gara Partenza all'1.45 Yes Prima PS mi sembra che sia alle L'1.45 No Quello è lo start La prima PS che devi pedalarti lassù Ah si? Ah si C'è scritto o no? Si Prima PS alle 2.25 Cioè che è la PS4 Ma come 2.25? PS4 2.25 PS5 alle 3 E' impossibile allora arrivarsi in 40 minuti Perché? Sono 200 metri di salito Ciao Cosa stai taroccando? La maschera Hai rotto la maschera? No perché sto maschera è un po' schifo Quindi se volete regalarmi una maschera a sponsor Sono qui Tra l'altro abbiamo una nuova challenge Quasi Ovvero al di fuori dei Fridays vlog Ogni volta che Ricky non parla in inglese Sono 10 minuti di pedalato Ahia Ahha Siamo qui a Bettone 2024 UCI mountain bike Italia Enduro World Series Cup Sì è il mio padre Questo è Giacomo Ciao E sì Questo è io Questo è io E siamo fatti divertiti oggi Sì 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 Se la ricorda E con questo Riccardo ha anche vinto un'ora di pedalato Quindi riscaldamento fatto Sì Fatica Ha dimenticato a casa la media della gara Bene Riccardo ha deciso di portarvi on board Per questa gara Vi portiamo tutti on board Let's go Let's go Grazie Quanti bocchiate No No 110 Bander Riccardo 309 Marullo Stefano Bruno Date le gas Più le foto Divertitevi Con loro Terminiamo le partenze Facciamo un applauso 3 2 1 Vai ragazzi Buon divertimento Grazie Madonna ragazzi Si è detetto il sudore Troppo caldo Oddio Ragazzi Siamo arrivati in cima a PS4 Una Delle salite più distruttive Che abbiamo mai fatto E non fate tante C'è di non aver mai sudato così tanto In una sola piesta Voglio vedere la canottiera Dopo Madonna Strizzeremo di Sudore Ehm 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 Mi ricordo Se mi vado solo Ehm 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 Pfff... Pfff... PS4 fatta Fa caldissimo Adesso siamo quasi arrivati Che andiamo a fare l'ultima La 5 Dai è andata bene Però ho sbagliato qualche linea Ma niente che sono primo Però devo mollarla Sul gas Ok Ratt Sì 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 Vai Voi Sì Oh 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 La gara è andata bene Italia l'enduro serie è finita 4 gare su 5 disputate Sono divertito È stato bello Un po' più faticoso Del Downy Però sempre bello Abbiamo vinto anche questa Sì, è andata bene Prossima tappa Europeo A Champery L'Elba In ottobre Let's go Noi oggi abbiamo pedalato Lui è stato a fare niente Il cameraman Scrivete nei commenti Scarsi Mettete le faccine così Vince la cattedoria Allora con l'alto fruso Ho concluso P5 Oggi nel campionato terzo Però Come Ricky Però Ricky mi ha dato merda P3 come Ricky Soddisfatti Madonna che serio Dice la cattedoria Anni Riccardo Let's go Let's go Se questo video vi è piaciuto Lasciate like Commentate Iscrivetevi Let's go Let's go Let's go Grazie.